Buongiorno a tutti, come al solito forniamo i dati dei pazienti ricoverati presso i due stabilimenti dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove come si vede dal grafico assistiamo a una progressiva diminuzione dopo il picco del momento di fine marzo. I casi sono abbastanza stabili negli ultimi giorni, però diminuiscono sempre quelli in terapia intensiva. Questo dato ci deve comunque sempre far ricordare che solo mantenendo le disposizioni di sicurezza, l'attenzione, il distanziamento, la mascherina eccetera, si può mantenere questo trend e continuare a farlo migliorare, quindi non abbassiamo la guardia. Il numero dei ricoverati oggi sono 26 negli ospedali dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, 6 sono all'ospedale civile e 20 al policlinico. Di tutti questi 8 sono in terapia intensiva, 2 al policlinico e 6 al civile, 3 in subintensiva al policlinico e in degenza ordinaria 15 pazienti tutti al policlinico.